sono sempre stato un po manicheo per cui ho considerato anch'io questo pianeta una specie di palestra di due opposte forze poi le zone di convine sono migliaia difficilmente chiare ma diciamo in generale nasciamo così il dualismo è la nostra stessa esistenza ma non lo trovo ti direi che che è giusto ecco non è perché una forza negativa rafforza quella positiva devi passare attraverso certe state sennò come fai a comparare no uno deve sapere di che cosa si tratta io oggi ti posso dire che preferisco la luce al buio per un fatto forse di scelta perché ci sono arrivato preferisco il benessere al malessere non sembra molte volte è stato detto e qui mi rifaccio proprio alla sensazione iniziale quando dicevo che di fronte a te bisogna parlare con una certa prospettiva con una certa ottica ma tu ti definisci non ti definisci quando ti definiscono saggio il saggio battiato tu che cosa dici se fossi veramente saggio non starei con questi consimili veramente è il saggio non è quello che invece condivide però per la saggezza anche c'è una una cosa di buddha che ti voglio ricordare che diceva è arrivata una freccia avvelenata mi è arrivata una freccia avvelenata non posso perdere tempo ad analizzare il tipo di veleno a chiedermi chi è l'arciere che me l'ha inviata chi è questo nemico che mi ha mandato questa freccia perché nel frattempo il veleno andrebbe nel sangue non avrei più speranza io intanto comincio a salvarmi poi mi faccio le domande mi faccio le domande ecco quale augurio ti fai e ci fai per il futuro ma più ti faccio e vi faccio devo dire ma non per fare l'altruista perché ho avuto buone cose dalla vita augurarmene altre sarebbe veramente un po sfacciato bene l'augurio per gli altri e in fondo l'altruismo egoismo no non è una cosa facile amare le persone anche questo ci si parla di amore così calma amare vuole dire non aspettarsi niente indietro se uno si aspetta una cosa non è più amore e quel dare senza neanche farsene accorgere allora sì che ha senso secondo te come come farà diciamo come faranno gli italiani anche se è un male collettivo dell'umanità a superare l'incertezza di questa di questa fase a quali valori bisogna attaccarsi ma mi pare sorprendente sempre il popolo italiano e anche stavolta si dimostrerà dimostrerà una variabile o una variante che ancora non è prevista e sarà così grazie grazie a te